recentemente pubblicato sulla nostra rivista riguardo al trattamento per i operatori e per il procedurale dei pazienti obesi. Questa consensus è stata guidata da una serie di colleghi, in particolare voglio ringraziare la dottoressa Di Giacinto che ha lavorato molto intensamente nel coordinamento di questo gruppo. E questo consensus è stato il risultato di un lavoro di gruppo di varie associazioni come potete vedere sia dal punto di vista anestesiologico ovviamente ma anche medico, chirurgico, fisioterapista e anche tutta la parte relativa agli infermieri. Quindi è stato un grosso lavoro di team e credo un'esperienza molto interessante per tutti noi e soprattutto anche per la nostra società che ha dimostrato che possiamo produrre delle linee di consenso sviluppate in maniera molto accurata e penso di elevato livello scientifico. Il processo è stato molto rigoroso e preparato, disegnato in anticipo. Abbiamo analizzato più di 860 lavori pubblicati in letteratura, abbiamo utilizzato il metodo di DELFI lievemente modificato per ottenere il consenso dei vari item proposti e abbiamo utilizzato come vedete un percorso ben delineato dalla valutazione dei vari studi alle procedure di consenso finale che hanno passato diversi step con la sottomissione dei vari statement prima al gruppo organizzativo, poi ai vari membri del consiglio della società e poi a tutti i membri per ricevere eventuali input. Quindi è stata un'operazione credo estremamente importante di larga scala e estremamente trasparente. Abbiamo proposto 33 questioni con 5 domini principali, il ruolo della valutazione del paziente obeso nell'ospedale, nella valutazione preoperatoria, nella valutazione intraoperatoria, nella sicurezza postoperatoria e alcune allerte o attenzioni particolari per speciali situazioni di cui non tratterò in quanto sono particolarmente limitate. È diviso in risposte, allerte e una proposta di bundle organizzativa. In ognuno di queste è stata poi valutata l'importanza e la fattibilità poi di messa in pratica di ognuno di questi items. Ovviamente vi riassumo alcuni degli aspetti più importanti, non potremo analizzare tutti e 33 gli item. Riguardo una delle prime domande è stata quali erano il trattamento dei pazienti e dei rischi procedulari dei pazienti obesi. Ci sono differenti linee guida pubblicate, non molte per la verità, sui pazienti obesi, in particolare quelli inglesi, però ovviamente dobbiamo adattare questi processi clinici procedurali alla nostra realtà italiana. Questo è un punto molto importante anche in vista delle nuove normative ministeriali e di responsabilità legale che abbiamo in Italia, in cui mettono molta importanza le linee guida, ovviamente c'è difficoltà spesso di traslare direttamente linee guida internazionali alle nostre realtà italiane. Infatti abbiamo definito che ogni realtà locale dovrebbe organizzarsi in accordo a queste raccomandazioni che ci auguriamo dovrebbero sempre più diventare delle standard nazionali. I pazienti obesi, questo è un punto molto importante a mio parere, devono essere informati riguardo alle migliori tecniche chirurgiche di trattamento che devono essere sottoposte, ma non solo chirurgiche, ma anche riguardanti a vari aspetti anestesiologici. Questo è un punto estremamente importante che mancava in linee guida precedenti. L'informazione deve anche portare eventuali proposte di alternative maggiormente sicure per il paziente. Era stato discusso questo aspetto in precedenza sulle pazienti cardiaco, quindi dare al paziente differenti opportunità. Se non si è in grado in un certo centro, si deve avere la trasparenza e l'onestà di indicare al paziente una nuova strategia. E il consenso informato deve essere firmato dal paziente e dall'anestesista, ma anche dalle varie componenti che fanno parte del team di lavoro. Quindi questo rientra in quello che viene chiamato team worker shared decision making. Infine si stabilisce, almeno nel nostro consenso, che il procedimento clinico deve essere comunque eseguito sotto la responsabilità di leadership di uno specialista in anestesia e terapia intensiva, vale a dire in Italia, di un anestesista rianimatore. E questo punto è stato preso in accordo con anche, avete visto, le società di chirurgia e altre società che fanno parte di questo consenso. Un altro punto interessante, che in questo è stato discusso, è il rischio respiratorio riguardante il management delle vie aeree. E ovviamente la valutazione del rischio dovrebbe considerare l'esperienza dello staff, dell'organizzazione dell'ospedale e delle equipment che si ha a disposizione, incluso gli ambienti nel periodo post-operatorio. E rientriamo ancora una volta in quel discorso che è stato messo in evidenza precedentemente. Alcuni aspetti devono essere considerati. La presenza o meno di sindrome metabolica, la circonferenza del collo, che deve essere sempre misurata in questi pazienti, e vedete i dati di diametro in pollici e in centimetri che devono essere considerati come limiti, il possibile preditore di intubazione difficile. È un parametro molto importante, la circolazione del collo, la circonferenza del collo. La possibile rischio di malattia da reflusso esofageo. Il rapporto waste-to-hip, che è anch'esso estremamente importante per definire i differenti tipi di obesità. E l'uso della Sistibola, l'uso della score stop bang, con però un limite superiore a quello che viene generalmente proposto, quindi maggiore o uguale a 5, per essere più restrittivi nell'eventuale uso di tecniche diagnostiche ulteriori. Questo è il questionario stop bang, che vedete è composto da 8 punti e di solito vengono considerati 3 o più come fattori di rischio nel paziente per valutazione ulteriore. Nella nostra consenso, se abbiamo preferito essere più conservativi, spostando questo limite a 5, maggiore o uguale a 5. Per quanto riguarda l'assessment preoperatorio, una domanda è in quali pazienti dovremmo proseguire verso delle indagini diagnostiche cardiologiche più approfondite, in modo tale da ottimizzare il trattamento. Abbiamo definito che i pazienti con uno stop bang superiore o uguale a 5 debbano essere valutati in maniera approfondita dal punto di vista cardiaco. Nei pazienti in cui ci sia un equivalente metabolico inferiore o uguale a 4, vale a dire in parole povere, 4 equivalenti metabolici sono equivalenti a eseguire un piano di scale, quindi se non si riesce a fare un piano di scale, questo paziente dovrebbe essere sottoposto a indagini cardiologiche ulteriori. Se si ha una saturazione di ossigeno inferiore a 94 in aria, ne parleremo domani sulle complicanze polmonari, credo che abbiamo ormai dati molto precisi che ci indagano che la saturazione in aria preoperatoria è un gravissimo fattore di rischio per le complicanze polmonari postoperatorie. Quindi bisogna misurare la saturazione di ossigeno in tutti i pazienti nella visita preoperatoria in aria, nel paziente obeso seduti o eventualmente supini quando fosse possibile o nella posizione maggiormente supina che si può ottenere, e l'inabilità, la possibilità di utilizzare, la difficoltà di utilizzare un'assistenza non invasiva, in questo caso CIPAP, a casa. Questi pazienti dovrebbero andare incontro a un monitoraggio emodinamico e cardiovascolare approfondito, più approfondito. Un altro problema è come definire i pazienti che abbiano bisogno o meno di un supporto più intensivo nel periodo postoperatorio. Questo è molto importante nella gestione e organizzazione dei posti letto del nostro azienda e del nostro ospedale. Un primo punto è che le consegne, l'endover che sarebbero le consegne, tra le varie componenti sono molto importanti. Il primo concetto è il parlarsi insieme in un teamwork, che a volte non è così facile a farsi, ma è estremamente importante. Poi si è definito che i pazienti che hanno un Obesity Surgery Mortality Score di 4 o 5 dovrebbero comunque avere riservato un posto in un ambiente di monitoraggio maggiormente intensivo almeno nelle 24-48 ore postoperatorie. Qual è questo Obesity Surgery Mortality Score? È molto semplice. Include il Body Mass Index, il sesso, presenza o meno di grave ipertensione, fattori di rischio per l'embolia polmonare e un'età superiore ai 45 anni. Se si ha 4 o 5 di questi punti, il paziente ha altissimo rischio di mortalità o ha maggiore rischio di mortalità e quindi dal 5 al 10%, quindi molto elevato, in questo aglio dei pazienti, deve essere monitorizzato e bisogna avere un posto in terapia intensiva. Un altro aspetto che è stato discusso è quando si trattano questi pazienti invece in ambienti ambulatoriali. Cosa dobbiamo fare in un ambiente di minore monitoraggio teorico? Innanzitutto bisogna avere delle chiare linee guida anche interne. Noi abbiamo cercato di dare alcuni suggerimenti. I pazienti che hanno un BMI superiore a 50 sono inelegibili per essere trattati a livello ambulatoriale, quindi senza un supporto di monitoraggio e di management terapeutico adeguato, se hanno delle comorbidità non sotto controllo, se hanno difficoltà ancora una volta al mantenimento dell'assistenza non invasiva, se la procedura chirurgica in questo caso è particolarmente invasiva, se necessitano ovviamente di un'anestesia generale, una situazione estremamente profonda e la necessità di somministrazione moderata o elevata di opioidi. Quali sono i limiti dell'usare appunto delle aree non specificatamente dedicate all'anestesia nel trattamento di questi pazienti? Un punto fondamentale è l'uso della capnografia che dovrebbe diventare una mandatoria in questi pazienti e l'amministrazione di Nora dovrebbe avere sempre lo stesso livello di monitoraggio che si ha in una sala operatoria convenzionale. Quindi il monitoraggio dovrebbe essere identico qualunque sia l'ambiente in cui si opera su questi pazienti. Su riguardo al quadro intraoperatorio alcuni punti sono fondamentali per minimizzare il rischio in particolare alla induzione, all'intubazione e al risveglio dei pazienti. Il posizionamento è molto importante. Si suggerisce con estrema alto livello di evidenza qualunque device più o meno specifico per mantenere il paziente in posizione semi-retta o semi-seduta al momento dell'intubazione e al risveglio del paziente. Questo è molto importante. Si possono usare device dedicati o semplicemente il posizionamento di cuscini in maniera appropriata. L'importante è che il paziente non sia supino. Un altro punto è il fatto che bisogna essere sempre preparati a un'intubazione difficile. C'è grossa discussione se c'è una maggiore difficoltà o no di intubazione nei pazienti obesi. Sicuramente è un paziente in cui si ha difficoltà comunque almeno psicologica da parte dell'anestesista al momento dell'intubazione e comunque dobbiamo essere preparati a un'intubazione difficile. Per minimizzarne questi rischi dobbiamo considerare la posizione ramped che è esattamente quella di cui vi ho parlato prima l'uso in momento dell'intubazione di procedure di assistenza respiratoria non invasiva di vario livello che possono essere l'i-flow nasal cannula che è molto utile anzi molto semplice nel suo utilizzo un uso di C-PAP non invasiva o addirittura di pressione positiva. Una induzione profonda e curalizzazione questo sembra un pochino una contraddizione in realtà sembra che un'induzione profonda e un'ottima curalizzazione favorisca una migliore intubazione mentre avremmo l'idea che una minore sedazione al momento dell'intubazione ci permetterebbe maggiore sicurezza. Dobbiamo dire che adesso abbiamo anche estremi device sovraglottici per esempio che ci permettono una quasi impossibilità a non intubo e non ossigeno. Quindi credo che questo poi possiamo discutere diciamo è un'area a mio parere in evoluzione anche nei suoi concetti fondamentali. La video-laringoscapia da sveglio può essere una potenza da sveglio ovviamente con un minimo di sedazione e anestesia soprattutto locale una possibile alternative alla intubazione fibrotica. Io mi ricordo negli anni primi anni 90 quando avevamo iniziato i lavori con Massimo Croci sugli obesi si intubavano tutti i pazienti per via fibroscopica. Adesso credo abbiamo fatto tantissimi problemi in avanti sia per per esempio l'uso della video-laringoscopia che a nostro parere nonostante ci sono alcuni studi adesso in terapia intensiva un po' critici ma credo che dovranno essere comunque rivisti in anestesia a mio parere molto importante e anche in terapia intensiva ma questa è un'altra considerazione e l'altro aspetto l'uso di device sovragotici che comunque ci permettono un'intubazione in ogni modo anche nel presenza di una standard intubazione difficile e poi la barba che è sempre un problema per questi pazienti da considerare come fattore di rischio all'intubazione. Un indice molto interessante è lo score di Engazzuri molto semplice che prevede come vedete l'apertura della bocca distanza attiramentare i malampati il movimento del collo abilità al problematismo body weight peso corporeo e storia di difficile intubazione che può dividersi in base alle varie classi se preventivare un'intubazione convenzionale con video-relendoscopio o con fibroscopio ovviamente in ogni caso dobbiamo avere tutti i device e l'esperienza per intubare in ogni modo però possiamo evitare a fare un'intubazione fibroscopia che comunque è abbastanza fastidiosa per il paziente anche se eseguita nelle migliori condizioni quando il rischio fosse effettivamente riservarlo o nei casi più complessi il livello di monitoraggio intraoperatorio essenziale saturazione dell'ossigeno molto importante è cruciale nei pazienti con diagnosi di OSA l'entidal CO2 che deve diventare dovrebbe essere adesso uno standard in tutte le anestesie in seri operatori anche nora e anche in terapia intensiva un monitoraggio del blocco neuromuscolare in questi pazienti monitoraggio ovviamente emodinamico più o meno complesso a seconda del rischio e opzionale la profondità dell'anestesia non vi sono dati che ci suggeriscono che debba essere mandatorio riguardo al management generale dell'anestesia si sa che la TCI non può generalmente essere usata in pazienti con un peso corporeo superiore ai 140-140 kg perché i modelli non si adattano al momento a questi sistemi quindi un uso della TCI eventuale solo nei pazienti con un body mass inferiore ai 140 kg quindi con obesità chiamiamola moderata e comunque uso sempre di short acting di una strategia ben codificata per i bloccanti neuromuscolari e eventualmente usare un'anestesia multimodale non affronto oggi l'uso volatile o endovenoso nel caso si potesse utilizzare quindi sui pazienti un po' meno obesi anche se ci sono dati che ci suggeriscono che l'anestesia volatile potrebbe avere dal punto di vista delle complicanze degli effetti più positivi però è un discorso più complesso che non possiamo affrontare oggi per quanto riguarda la rapid sequence induction o intubation il paziente non la richiede rutinariamente questo è un altro mito che credo dobbiamo sfattare solamente nel paziente supposto in emergenza a stomaco pieno in gravidanza e quando si abbia una malattia di flusso di esofageo sintomatica quindi queste sono le limitazioni dell'RSA come si può migliorare l'alcom post-operatorio domani tratteremo non specificamente nei pazienti obesi ma nei pazienti in generale come ridurre le complicanze post-operatorie beh alcuni dati li possiamo dire la pre-ossigenazione con le tecniche di cui vi ho parlato prima sono suggerite e si suggerisce anche se non abbiamo ancora dei dati definitivi una ventilazione protettiva vale a dire un volume corrente comunque tra i 6 e gli 8 militi pro chilo di peso ideale non abbiamo paura di ventilare così questi pazienti mentre sappiamo adesso uscirà fra breve lo studio Las Vegas che ha raccolto come ventiliamo i pazienti abbiamo visto che in Europa i pazienti obesi vengono ventilati con volumi correnti di 10-12 militi pro chilo tendiamo a iperventilare dal punto di vista del tardavano i pazienti obesi non sembra che ne abbiamo necessità secondo la PIP tendiamo a usare una PIP tra i 5 e i 10 centimetri d'acqua un pochino più alta rispetto ai pazienti non obesi però sapete abbiamo in corso lo studio ProBese che è lo studio randomizzato sull'uso della PIP nei pazienti obesi posso dirvi che ha randomizzato al momento più di 1700 pazienti e il target finale è 2000 quindi ci siamo vicini so che molti in Italia partecipano a questo studio siamo al rush finale e penso che per fine anno avremo la fine dello studio il più grande studio mai effettuato sugli effetti della ventilazione meccanica e l'out compost operatorio credo veramente definitivo sull'uso della PIP in anestesia e forse farà crollare non lo so qualche mito e poi avremo lo studio ProTor di cui Mert è PI insieme a un folto gruppo di persone che è già partito in alcuni centri è in corso di approvazione in comitato etico e vari centri sono stati già contattati è un altro grande studio programmato su più di 2000 pazienti bene alcune cose sulla sicurezza post operatoria una fase molto importante è l'estubazione che viene spesso si dà molta attenzione all'intubazione meno all'estubazione alcuni device specifici possono essere utili e include in particolare in questi pazienti sembrerebbe una strategia di monitoraggio e di reversal del blocco neuromuscolare che qui sembra avere un ruolo di particolare importanza in particolare nei pazienti obesi con sospetto di osa e poi la posizione semiseduta come dicevo prima è importante all'intubazione ma anche alla estubazione alcuni score che credo siano estremamente importanti quando il paziente viene dimesso soprattutto nel reparto è l'uso del National Early Warning Score o NEWS che è un indice di gravità del paziente cioè quando il paziente inizia a avere più di quattro di questi parametri o ne ha uno solo a punteggio tre questo paziente vuol dire che inizia ad andare in crisi e quindi dovrà essere supportato o in reparto o in un ambiente di maggiore monitoraggio e vedete che i parametri quindi da valutare nel post-operatorio sono frequenza respiratoria che spesso non viene scritta neanche in cartella clinica o misurata la saturazione di ossigeno che spesso non viene misurata o comunque non rutinariamente l'uso eventuale supplementale di ossigeno la temperatura che viene misurata la pressione sistolica la frequenza cardiaca e il livello ovviamente di coscienza un altro parametro molto interessante che credo potrebbe sostituire il news adesso ci stiamo lavorando è il cosiddetto quick sofa che questo è ancora più è un quick news anche vale a dire tre parametri pressione sistolica meno dicente confusione agitazione mentale e frequenza di vittoria più di 22 se si hanno due o più di questi parametri io ci aggiungerei anche la saturazione meno di 94 come abbiamo visto prima questo paziente ha un elevato rischio di complicazione quindi credo che questo sia un processo da organizzare nei reparti dei nostri ospedali noi abbiamo iniziato un lavoro con corsi e training al San Martino tralasciamo quest'ultima parte e di tutto questo chi di voi è interessato può vedere la pubblicazione abbiamo creato un poster adesso non dobbiamo leggere ogni punto del poster per farvi vedere che questo poster ha colori molto attrattivo dovrebbe essere stampato si può stampare download dal sito e attaccarselo nella sala operatoria oppure metterselo su una app e credo che questo su un iphone insomma non voglio far pubblicità ma insomma su un telefono questi cellulari moderni e credo che questa sia la strada noi stiamo usando molto questa tecnica cioè avere delle linee guida interne anche aziendali con dei poster e noi siamo adesso la terapia intensiva iniziamo a avere poster molto semplici con delle percorsi diagnostico-terapeutici da seguire che cerchiamo di conoscere ma se ci dimentichiamo qualcosa abbiamo un supporto quindi in conclusione credo che questa sia stata una bella esperienza per la società italiana e non solo un grande gruppo di persone che ha cercato di promuovere in questo ambito una standardizzazione del management diagnostico-trinco-terapeutico la SIARTI e tutte le altre società e componenti che hanno partecipato hanno il commitment di supportare e migliorare il trattamento in questo caso dei pazienti obesi e di aiutare all'implementazione di queste linee guide a livello nazionale e di supporto alle altre nazioni se interessate ad avere un interscambio di queste informazioni ed infine crediamo che questo procedimento così rigoroso dal punto di vista scientifico e trasparente dal punto di vista organizzativo come avete visto dovrebbe essere estremamente utile a livello regionale aziendale in primis ma anche regionale e ci auguriamo a livello nazionale per sensibilizzare i nostri amministratori degli ospedali e eventualmente anche la nostra parte politica organizzativa per migliorare il management dei nostri pazienti nei vari punti che abbiamo presentato il discorso grazie grazie